ciao in questo nuovo video vi faccio vedere la versione 3.0 di questo qua questo qua era quello che si apriva sopra per mettere dentro le soda con sopra le soda naturalmente e che senza le monete non funzionava funzionava solo monete ora c'è questo qua 3.0 so che fa schifo però l'ho inventato io e più ma senza monete guardate quando premo uno ripremo a scusate tiro indietro ripremo certe volte potrebbe essere che non funziona per ora funziona la lattina è qua poi tiro indietro e premo questa qua è l'ultima che ci può stare guardate ora se volete vi faccio vedere questa la ricarico da poi vi faccio vedere aspettate che ha da prendere le monete eccomi qua allora guardate senza moneta non va ho la moneta premo premo qui dietro metto ho sbagliato io stavolta scusate l'ultima ecco poi tolgo la parete che ho scritto soldi ecco ciao